Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi torniamo con un video ignorante, preparatevi grosse risate, grossi pesci però attenzione eh, grossi pesci anche e tanto tanto divertimento e ignoranza. Dunque ragazzi mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque direi che una settantina di like ci può stare per questo video e dunque direi via con il video. Grazie a tutti. Dai Cianno, vai vai Cianno, movi te Cianno, è il motore, è il motore, è il motore. No scherzè. Dai che te paga la beva per tutti. Dai Dennis che vieni a sgordo eh. Dai Elena alborea, addio. Dai gazzo. Questa lo misuriamo o no? Dai stia caldo. È un siago dio. Dennis che ha già palpeso. Guarda che becca vedono. Guarda che becca vedono. Ma a te Cristian non serve tanto. Non capito, volevo fermi di nuovo eh. Occio Marco, arriva Marco. E Marco paga da beva, e Marco paga da beva. Quanto grosso è io? È il mio, è il mio più grosso del tuo. Sì, col cazzo. Gli do fratei e mei secondo me. Gli do fratei. Sì ma avete rotto. E qua si nota chi che gli do cui attoni. La gallina canta. Bene. Buon signo. Decidivo diventare uomo. Anche probabile. E il tappo non cotta, non l'è valido. Oh sì, finalmente. Lei è un pesetto di merda. Ma finalmente. Oh, un cavigano. Socio, ho deciso di ricattare a me eh. Qua? È il primo pesetto. Ah no. Socio, ti? Pena, ho preso un pesetto. È il primo pesetto. Dai Tullio. Tullio. Come la fai ora? Ehi, che vana. È vicino. Ho grattato qua. Si è bloccato. Pausa tecnica, fine primo tempo. Come è, Socio? Ben, ben. Se mangiasse ben, sarebbe ancora meglio. Vigino, sapato, visse che è piton che ho già fatto. Oh, viste. E ora è qua un altro. Ma ora è piton. Si, si. Però so a tre... Rekho, è caso che non va qua. È più leggera sta qua. So, beh, a quattro pesi. Beh, stia. E Tommy paga la beva. E Tommy paga la beva. Dai, tiro fuori a Dio, l'enalborea. E se mangiasse un po' di azione che là. Ohi. La mia fiammatura è. Pallino del 10, sfera, pallino del 10, asola e 5 centimetri di cavetto. E dai, l'enalborea, Cristian, tiri al su. Oh, con lei in gara, vai, che ti ha messo a pezzo che su. Non è un po' l'enalborea. Ma sì, lei... Ma se è un fiato patta, se è un fiato patta, ma lei è un'enalborea, tu hai visto? Se è un fiato patta e basta. Dai, pizio. Lei è un gardons. No, no, no. No, è piccolo. E, 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 piccini. Ma le piccini. Carone, caro. Ma magari in gara dei pesci e zeri, non mi sa. Quella ne servia, povinza. Tornai? Chi ha c'è parte, caro? Tommy. No, no, Tommy. Quello di Tommy. Vai, Dennis. Chi è che ha spinto il sole? Oh, ti è arrivato. A casa. Tiri fuora, Dennis. Non c'è farsi l'uno qua. Io è bestia. Dennis, va su, su, arriva. Sei una bastarda qua, metto la posizione. Le piccini, dai. Voglia. Tutto la mano, vai. Socio, arrivo, mi. No, è un reale, eh. Socio, arrivo. È un realone, questo. Io i bestia, come? Oh, questo qua è... Prezzo! Ciao, ciao, slava mio team. Faglio venda a tutti per piacere. Diga che qua è campione. Vai. Vai, Ciano. Vai, Ciano. Sai impiantare qua in te, in te gli erbai. Io gli scrivi sulle squame, Ciano. Io sono Ciano. I.M. Cianos. È il tuo, io non 40. Quello di Tommy, io era sui 50. Sì, comunque, questo qua è il tuo, del principale. Il tuo, non è una ruba, è la fissa come una ruba di euro. Esatto. È la canna magica. Dennis, è vero. Se te la mente la del posto, ti, eh. È il più preferito. Non hai carbura con la bocca. No, è piccinissimo. Non ho voglia di guadinarci, quindi, fengussi. No, voglia di guadinarci. Non voglia di bagnare guadinarci, quindi, ciappa. no, è picc' 他. Dai, 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 dai. Ma una mamma, oh. Tan 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 che, ti è orgoglio. ho notato come quello di cristian bravo bravo ok cristian io sono mila dai maglia dio eh 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 Wiii! Scusaglio fa tutto per i soldi eh 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 ehhar qua il belino bello shish eai mole ven qua ok un altro brim 5 e su o che vedano hai visto che è slamata fatto qui che release l'ho portato indietro l'ho portato in avanti si è slamato qua in acqua perfetto adesso fai vedami come si ciappa qua Giammarco mi sa che paga la beva se tu ti d'accordo che Giammarco è quel più grosso? no 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 rimane quello del tennis si si mi fido di marco mi sembra 80 no? no 2 metri e 20 è duro la batta adesso provi a fare una cassata però secondo me può ripagar non lo so non lo so Grazie a tutti